Io sono Marco Mussoni, nel film La guerra a Cuba io sono un assessore alla cultura e mi chiamo Roberto e ho insomma una famiglia a cui tengo relativamente perché diciamo che è un rapporto un po' lugoro sia con moglie sia con figlio. E più che altro per me sono necessari il mio ruolo politico, avere una famiglia è importante e appare questa giornalista che penso sia una possibile preda come probabilmente il mio personaggio ne ha avute tante ma in realtà è abbastanza tosta e mi porta a fare insomma atteggiamento, ad assumere atteggiamenti e comportamenti inaspettati perché sono all'angolo, non so bene come reagire, sto perdendo tutto il controllo della situazione e fondamentalmente questo è un povero politico disperato classico nei giorni nostri. Grazie 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 Grazie